Tempi precisi per ora non sembrano essercene al Ministero dello Sviluppo Economico. Continua il lavoro istruttorio per il rinnovo dell'accordo di programma che dovrebbe concentrare le risorse finanziarie per investimenti alternativi a quelli di Eni. È scaduto ad ottobre una bozza del provvedimento di proroga è stata trasmessa dal Ministero agli uffici regionali. I soggetti istituzionali di riferimento sono la stessa regione, il comune, il sindaco Lucio Greco e l'ingegnere Pietro Inferrera hanno avuto di recente un incontro con i funzionari del Mise. Da riscontri avuti con gli uffici, spiega invece il senatore Pietro Lorefice, è stato comunicato che una bozza della proroga è stata trasmessa alla regione. Secondo Lorefice, considerati anche i precedenti poco benauguranti per altre procedure che a Palermo hanno riguardato la città, non è chiaro quali tempi potrà avere proprio la regione nel definire il procedimento. La bozza dovrebbe comunque essere trasmessa anche al comune. Lorefice, che ha preso parte attivamente ai lavori della Commissione Industria del Senato sul caso dell'area di crisi complessa locale, sta seguendo le varie fasi e sulla proroga la stessa commissione è stata netta nel richiedere al governo un rinnovo anche per non perdere i fondi, circa 25 milioni di euro. Ad oggi l'area di crisi e l'accordo di programma, strumenti che in altre regioni italiane hanno consentito l'avvio di progetti e investimenti sul territorio, non hanno prodotto nulla, ad eccezione di un unico progetto finanziato. Questa volta i fondi saranno quelli del governo e non più fondi europei.